Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di metincalabria.it. Nelle prossime ore l'approfondimento e l'avvicinamento di un'area di bassa pressione sulla penisola iberica attiverà in risposta l'attivazione di correnti miti provenienti dal Nord Africa che causeranno un deciso aumento delle temperature sulla nostra regione. Nella giornata di veredì è atteso un debolo e più moderato peggioramento che interesserà principalmente i versanti tirrenici ed interni della Calabria settentrionale. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Giovedì cieli parzialmente nuvolosi con possibili debole piogge in particolar modo sui versanti ionici. Temperature in rialzo di diversi gradi. Venerdì sui versanti tirrenici ed interni della Calabria settentrionale cieli regolarmente nuvolosi con piogge sparse e possibili deboli nemicate sulle cime più alte del Pollino e Altipiano Silano. Altrove cieli poco parzialmente nuvolosi con possibili debole piogge che potrebbero interessare i versanti ionici catanzaresi. Temperature stazionarie. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Giovedì mari inizialmente mossi con moto in dosi in deciso aumento nella seconda parte della giornata e venti moderati dai quadranti meridionali. Venerdì mari generalmente molto mossi con moto in dosi in aumento dal tardo pomeriggio specie sul mar Tirreno. I venti ispireranno moderati dai quadranti occidentali sul Tirreno, moderati in direzione meridionale sul Mar Ionio. Ed infine prima di salutarci vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina facebook Meteo in Calabria. Per l'appuntato di Anna è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento.